Coachi Matassini, una vittoria di campionato con numeri da capogiro? Sì, noi siamo arrivati qua ad agosto scorso con le idee chiare su quello che sarebbe dovuto succedere, dopo di che dalle intenzioni alla pratica ci sono stati nove mesi di lavoro duro, ho chiesto davvero tanto a queste ragazze ma mi hanno dato indietro tutto e anche di più ho visto questo finale così convincente perché al di là di aver vinto il campionato siamo imbattuti da 18 partite, abbiamo fatto un percorso da gennaio in poi praticamente perfetto, fatto eccezione purtroppo per l'episodio della Coppa Italia dove ci siamo presentati in campo con la squadra che aveva il Covid praticamente su quasi tutte le ragazze, quindi al di là di quell'episodio abbiamo fatto una stagione davvero memorabile, sono molto contento anche perché come è stato detto anche in conferenza stampa questo posto meritava di tornare dove aveva già stato. Ecco lei mi viste alla fine della partita in casa con Umbertide, siamo pronti per fare la storia e siamo pronti per compiere questa missione, quindi diciamo missione compiuta. Sì sì, missione compiuta, missione compiuta alla grande nella maniera più rapida possibile perché volevamo evitare di tornare a giocare gara 3 in casa e abbiamo fatto una gran partita solida a Umbertide, proprio si vedeva che tutti volevamo raggiungere questo momento.